buongiorno compagni di via questo è il secondo video sui primi passi verso il purna yoga di sri aurobindo emmero vi ho lasciati parlandovi delle prime scoperte in questo faticoso cammino faticoso anche perché come vi ho detto il purna yoga è una via non codificata in cui non ci sono dei maestri che possono insegnarti come procedere tranne appunto la possibilità di confrontarmi con alcune persone che avevano più esperienza di me su questo argomento mi sono riferito a davide montemurri a suo tempo e ad altre persone vicine a lui e i primissimi anni li ho passati a studiare ovviamente i testi sono tantissimi testi scritti da sri aurobindo tantissimi testi scritti da mer anche da alcuni discepoli e anche i testi molto importanti di sat prem che ho già nominato e mi sono reso conto che soprattutto le opere di sri aurobindo non erano di facile lettura ci ho impiegato anni leggendole rileggendole evidentemente maturando anche dentro di me attraverso la sadana che cercavo di compiere che era possibile che mi si chiarissero un po di più le idee quindi però la difficoltà nei primi anni è stata è stata una difficoltà grande soprattutto ripeto nel leggere le opere di sri aurobindo e ho voluto per questo parlarvene perché ho visto che chi vuole iniziare anche ad informarsi su su questi due esseri meravigliosi sri aurobindo e mer a mio avviso dovrebbe cominciare con il libro di sat prem sri aurobindo l'avventura della della coscienza in cui sat prem descrive col cuore direi gli aspetti salienti di questo viaggio di questo insegnamento di questa via del purna yoga ma un altro libro che consiglio assolutamente è il libro di sat prem l'uomo dopo l'uomo sempre delle edizioni mediterranee perché sapremo stesso quindi l'allievo del cuore di mer che racconta la sua vita e racconta come è arrivato a scoprire sri aurobindo e la madre tutti i passaggi della sua vita molto travagliata e quindi è anche utilissimo sapere la biografia dei personaggi sat prem tra l'altro all'età di vent'anni come prigioniero politico lui era francese bretone fu incarcerato dai tedeschi portato poi a mauthausen mi sembra comunque in un campo di concentramento dove rimase due anni poi furono liberati dai russi e quindi tornò alla vita consueta ma non poteva avere una vita consueta dopo questa esperienza ed essendo un uomo così particolare così incredibile come potrete leggere in questo libro l'uomo dopo l'uomo che è un intervista sat prem e nell'ultima parte del libro c'è anche l'intervista di davide montemurri a sat prem che è molto importante che si trova nel film documentario l'uomo dopo l'uomo in italiano non so in francese qual è il titolo bene la prima cosa che davo per scontata per lo meno una delle prime cose che davo per scontato da novellino la prima cosa che si trova per scontato era che Siria Aurobindo e Mer fossero considerati da tutti coloro che in qualche modo si erano collegati a questa via nello stesso modo cioè come due esseri uniti di pare importanza invece cominciai a scoprire con mio grande stupore, disappunto e tra l'altro lo scopri anche quando molti più anni dopo andai ad Auroville alcune volte che alcuni prendevano in considerazione soltanto Siria Aurobindo altri consideravano Mer come di secondaria importanza mentre io fin da subito avevo colto che invece il Purna Yoga è connesso a loro due insieme a loro due insieme, non sono separabili Siria Aurobindo e Mer e questo lo voglio ribadire perché già si parte in maniera sbagliata se si immagina che uno possa accostarsi al Purna Yoga privilegiando Siria Aurobindo o privilegiando Mer o comunque ponendoli su posizioni diverse ed è per questo che nell'introdurre questo percorso che sto cercando di portarvi anche in maniera molto semplice magari anche un po' infantile e che vi voglio leggere alcune lettere alcuni scritti di Siria Aurobindo che sono inequivocabili su questo argomento nel 1926 Siria Aurobindo in un colloquio, in un dialogo questa volta nei confronti di Alnibaran Roy, un suo allievo disse, raccontò quando venni a Pondiscerì mi fu dettato interiormente un messaggio per la mia sadana l'ho seguito e ho progredito per conto mio ma non ho potuto fare molto per aiutare gli altri poi è venuta la madre siamo nel 24 aprile 1920 il giorno in cui Mer sbarca a Pondiscerì e rimane definitivamente poi è venuta la madre e con il suo aiuto ho trovato il metodo necessario e qua ascoltate bene questa frase perché qui lo scrive e non c'è ombra di dubbio e lo dice chiaramente anche in altre parti delle sue opere la coscienza della madre e la mia sono una sola e stessa cosa ecco mi sembra che a questo punto ogni diatriba debba cessare Sri Aurobindo dice anche che la sua sadana quindi la sadana dello yoga integrale è questa via e quindi il lavoro interiore aspettavano l'arrivo della madre quindi senza la madre non sarebbe stato possibile portare avanti il suo lavoro e la sua sadana in una lettera a Barin suo fratello ricordiamo che Barin fratello di Sri Aurobindo era come Sri Aurobindo un rivoluzionario perché Sri Aurobindo è stato il primo a iniziare il processo di liberazione dell'India ancora prima di Gandhi questo è un fatto che potete appurare storicamente leggendo della vita di Sri Aurobindo quindi in questa lettera a Barin Sri Aurobindo dice nel mio caso l'arrivo della madre era una condizione necessaria per il lavoro che dovevo fare se avessi dovuto occuparmi solo della mia trasformazione o fondare un nuovo yoga o un nuovo ideale o di un ristretto gruppo di persone selezionate venute in contatto personale con me avrei potuto farlo senza alcuna Shakti cioè senza di lei poi vi spiegherò sempre con parole elementari cos'è la Shakti Mer rappresentava comunque la Shakti ma continua Sri Aurobindo quando per il lavoro che dovevo fare era necessario che le due parti si ritrovassero insieme le due parti sono Sri Aurobindo e Mer Purusha e Pracriti direi l'anima individuale e l'energia universale della manifestazione ma questo lo vedremo in maniera più più precisa quando vi leggerò altre cose nei video successivi inoltre confidò al fratello Barin sempre che con l'aiuto di Mirra potè compiere in un anno ciò che altrimenti ne avrebbe richiesto dieci in una risposta ad un discepolo da Ulatra Mascharma Sri Aurobindo disse anche è un errore fare una rigida separazione tra me e Mirra quindi testuale entrambe le influenze sono necessarie per un completo sviluppo della sadhana cioè di questa via dello yoga integrale solo il lavoro congiunto di noi due porta la verità super mentale nel piano fisico la madre o io stesso inviamo una forza se non c'è apertura la forza può essere respinta o tornare indietro come se ci fosse un'ostruzione ma se c'è la disponibilità ad accoglierla se c'è un surrender questa forza può toccarci e attivarsi in noi stessi e in un libro sulla madre Siria Aurobindo dice ad un suo allievo ricordati sempre che è il lavoro della madre che stai facendo il lavoro deve essere fatto per la madre e non per se stesse e questo è il modo per incoraggiare la crescita dell'essere psichico cioè di questa particella divina nascosta nel cuore e superare l'ego è molto importante quindi che se vogliamo comprendere lo yoga integrale approfondiamo in pari grado con pari intensità questi due esseri in realtà potremmo dire che Siria Aurobindo e Mer sono un avatar in due corpi ricordiamoci cosa sono gli avatar ammesso che ne possiamo parlare io stesso ne possa parlare così in maniera così superficiale ma diciamo che affinché lo capiscono anche i bambini un avatar è la manifestazione del divino è una emanazione del divino il divino in certe epoche della storia umana invia una sua emanazione appunto un avatar affinché dia una svolta all'umanità il Buddha è un avatar il Cristo un avatar il Buddha ha portato l'energia della compassione il Cristo dell'amore e direi Sri Aurobindo della coscienza di verità proprio della coscienza supermentale di cui vi parlerò cioè un livello di coscienza un piano di coscienza già esistente che ancora l'uomo non ha maturato perché l'uomo dice Sri Aurobindo un essere di transizione ma che svilupperà gradualmente nella sua evoluzione sempre usando un linguaggio per bambini quindi leggendo questi primi libri e l'uomo dopo l'uomo di cui ho già parlato Sri Aurobindo e l'avventura della coscienza e Mera il materialismo divino di cui vi avevo parlato nel video numero uno e scoprì delle cose che erano per me un ulteriore stimolo nell'approfondire il mio lavoro di psicoterapeuta corporeo e la mia ricerca spirituale come sadaka come avventuriero spirituale perché cominciai a trovare sempre di più nelle varie opere delle cose molto importanti riguardo alla visione che Sri Aurobindo aveva e Mera aveva del corpo dell'importanza del corpo nel Purna Yoga del corpo come direi strumento e occasione di manifestazione dello spirito e non del corpo come impedimento alla via spirituale un corpo da semmai costringere imprigionare imbrigliare per poi abbandonarlo al momento della morte la visione di Sri Aurobindo e Mera è che anche il corpo può trasformarsi può essere infuso della nuova coscienza supermentale cioè di questo piano di coscienza di cui Sri Aurobindo è l'iniziatore in quanto lo collega al piano della terra che rappresenta il futuro dell'umanità per dirla sempre in parole semplici l'uomo attuale è un uomo mentale quindi la mente funziona per opposti per contrapposizioni analizza la mente basica la mente ordinaria e quindi è portatrice di contese di conflitti lo stiamo vedendo sempre di più ma esistono piani molto più avanzati molto più complessi anche dei piani mentali superiori ma Sri Aurobindo fa esperienza di un piano di coscienza che va oltre ogni livello più raffinato della mente lo chiama questo piano coscienza super mentale o coscienza o coscienza di verità perché su quel piano esiste solo la percezione della verità ma facendo un passo indietro e tornando ad un discorso più comprensibile approfondendo le loro opere e rendendomi conto dell'importanza del corpo nella sadana stessa cercai in tutti i modi di portare questi contenuti anche nei processi terapeutici mi aveva colpito molto una frase di Satprem ne parla nel suo libro Intervista L'uomo dopo l'uomo in cui dice testualmente la verità so sentirla solo quando pulsa realmente nel mio corpo lo stato di verità è per me quando il corpo si trova in uno stato armonioso quando non si sente prigioniero e qui ho visto subito l'analogia con Willem Reich che dice molto chiaramente nell'assassinio di Cristo che la verità è una funzione naturale dell'essere umano la verità è una funzione quindi non trascendente ma insita ed è molto connessa all'armonia del corpo Reich questo lo dice più volte sembrano veramente due frasi di due che si sono copiati ma per rincarare la dose Mer scriveva solo il corpo può comprendere un corpo interamente cosciente potrebbe persino scoprire ed elaborare il metodo materiale e il procedimento esatto della trasformazione sarebbe dunque il corpo a farsi partecipe o agente della propria trasformazione quindi c'è una coscienza nascosta nelle cellule del nostro corpo perché poi vedrete andando avanti che Mer approfondì moltissimo lo yoga che possiamo definire delle cellule purna yoga portato ad un livello veramente cellulare la memoria cellulare per modificare la memoria cellulare per risvegliare la parte divina che insita in tutto ciò che esiste e quindi anche nelle nostre cellule e in un'altra frase dell'agenda lei dice da migliaia di anni il corpo ha l'abitudine di esistere separato solo a causa dell'ego senza ego il corpo può continuare a sostistere grazie ad un'altra legge che non conosce ancora beh d'altra parte l'evoluzione come è avvenuta per quello che ne sappiamo noi dai primi organismi semplicissimi monocellulari in una intelligenza della vita in un progetto insito nel seme della vita sono venuti fuori poco per volta tutti gli altri esseri quindi i vegetali gli anfibi i pesci rettili uccelli fino a progredire sempre di più gli antropoi i mammiferi e l'essere umano Sri Aurobindo diceva che l'uomo è un essere di transizione quindi non ha ancora terminato il suo sviluppo continuerà questa trasformazione verso una coscienza più vasta che non sarà più una coscienza divisiva che frantuma la realtà che la interpreta e la distorce ma sarà una coscienza di verità o coscienza super mentale perché va oltre i livelli più alti della mente ma questa è un'altra storia adesso vi saluto e vi auguro ogni bene